Il porro di Cervere fa la differenza nel fusto, la lunghezza del fusto che per il momento non ci siamo ancora accorti su altre regioni, altri stati. Porro lungo così perché l'abbiamo migliorato noi nell'arco degli anni. Porro d'oro 2021, per i 25 anni del grande lavoro del Consorzio Tuttele e Valorizzazione del Porro Cervere, il suo presidente Giorgio Maria Valgesio. Beh grazie, l'emozione è tanta ma la voglio veramente condividere con quella splendida squadra che ce l'ha la nostra sinistra, perché chi lavora con le sue mani, con la sua testa e con il cuore è un artista e questi signori sono degli artisti straordinari. 13 novembre 2021 dopo tanto sacrificio ce l'abbiamo fatta, ha ufficialmente inizio la 42esima edizione della Fiera del Porro Cervere. Buon lavoro a tutti e soprattutto buon appetito!